La notizia è chiusa fare brutti io stai a che batti? a che resto? mi sono buttata all'America quando mi ha andato a mamma e poi mi ha servito i camerini e mi ha fatto una canazia e come stai emozionato? ma non mi piace ma non mi sono bruciato volevo dire dolcecita sapete stavo pensando a far cavalire a marito ma quella posizione che tiene puoi avere pure una rocetta più grossa eh? io che ne ritaggiavamo? è un ruolo per i mole non la congenza io sono mandato eeeh qui mi manisco vostro cognato no no sarà successo qualcosa a partire ma spiegate un certo io non sono io sono mandato ma che ci ha zaccato? ai tu che i brioche in tutto a noi c'è il bacio non ne ha mai eh non stanno i brioche in tutto io non ho fatto un'altra ma io non ho fatto due morde e cosa ha fatto? ma tu non ne scrivi e se te lo metciate ma stai a che si o te faccio una ricomba e brioche fresco come si deve dalla migliore pastucceria le hai capito? le hai capito ma che l'è? è arrivata in braccia sotto un'alumina c'è c'è ma che l'è? 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 ma l'è? ma come facci senza telepere? come faccio? calmatevi ma che l'è? ma io sono perso senza telepere ma guardi che l'è? ma che c'è? ma che c'è? ma mentre io metti la buia non me la sigaretta non me la sigaretta ma che c'è? non me la sigaretta ma io sono 20 anni che sto in america si davano a smettere da parte uno centesimo all'anno ti ha cattato un quartone ma io non capisco che questo vennero da un paese le macchinette non fa tendere a cento i sigaret non devo sapere più basta 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 io quando stavo facevo la box ogni tanto vedo che dovete parlare di affari di famiglia me ne fate torno più tardi buongiorno commentatore buongiorno 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 hai chiesto un barbagiano che sta sempre a me è un buon amico si si è un carissimo amico sentite ma perché non ci ho dici chi l'ha così? se regola pure ricete la verità se regola 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 ecco voi ecco voi ecco voi si comincia quattro mesi quattro mesi quattro mesi eh perché non c'è dono? come c'è dono? ma perché? ma perché? non è qui? no non è dono ma non c'è quattro mesi perché stiamo a risicolosi che si sta ruendo l'altro ci mettono certamente ma non lo faccio ecco il figlio non lo faccio non lo faccio ma te che ti apriamo dopo la tua presa che? come ti apriamo? tu scrivi io sto bene eh ma io mi dicevi saluti si è passati anche saluti eh ah ah perché non capivo i soldi perché quello concetto scrive sempre facendo tavolelle lasagne sartughe ah che lo puoi capire questo pazzo eh che lo puoi capire come si fa 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 con la tua ma non capire con la tua ma che lo puoi capire ti hai capire con la tua inglese in inglese carri ma non capire ma non capire come stai ingoiato frato mio come stai ingoiato e meno male che sono venuto io ah no meno male che sono venuto io perché? 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 perché perché frato mio aver compagno al tuo è scema la pena non è te ma dai hai te che te non ho compagno al tuo ma che è scema la pena ma non c'è nessun uomo io mi chiedi e guardi qui ho fatto il lavoro basta non ti sei cambiato io non ti sei cambiato ma non ti sei? non ti sei? non ti sei un conto che sei fra l'anno ma che capite non ti sei cambiato io ti sei cambiato esci si e ti sei la passava proprio papà ci passa papà anche l'acqua perché l'acqua in averno l'acqua sul freddo non ci sta e io voglio far provare il mistero e mi raccomando il tuo pranzo guardate che io basta ne mangio molto più tosto qualche contorno in più i cinesi lo gradiscono facciano un po' di appetito ma che staccano poche muzzarelle un po' di prosciutto crudo un po' di peccante un po' di aceto un po' di insalatella un po' di dolce a fine foglia a fine foglia mi raccomando una fine foglia mi raccomando un po' di caffè e poi mi manda come ci viene capito? una cosa mi raccomando succhi premuti e pomodoro la usano molto una bottiglia di latte l'acqua 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 tutto l'acqua 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 sempre l'acqua te ti raccomando tutto il piccolo rumo e se lo fai ok ci vediamo più tardi bye 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 ma ci sta veramente forte nè assassino assassino la casa Oh, buoni giorni, buoni giorni, come avere dormito? Poni, male, come stare voi? Come stare i rubi e crevati. Io contenta, voi tutti essere molto, molto fettenti. Ma come? Ma che baghezza. Ma che lo fanno buon'uso. Ma dove essere il lavaturo? Io cercare, cercare, ma non avere trovato. Ma che baghezza, non lavato? Sì, tu hai una mano. Miss, noi apprezziamo il vostro gesto molto gentile, ma voi non avere mano di lavare. Tu, puzzolente, io mattina a lavare, io a sciacquare. Aspettate, portatevi. Ah, già, tu vuoi l'americano, sei così bello. Miss, tu è bene. Ah, io... Ovo l'angelo. Ma voi per mare? No, io non mare, io ho pisci. Capo. Pisci. No. I don't bother. Pisci, no, la come dire voi, piccola piscina. Rapinozze. Raffinia, non mi piace, non ti sento più di più che il cervello. Pugge, questo, ma tu non avrai mai scherzo. Ah, tu nemmeno capire? Vado, Giacis, va a scuola. Fasca, ecco la parola che io cercare, Fasca. Forse è meglio che io parli con te. Però tu con me non ci parli. E vedi che tu hai lavato i bagni. Ah, ecco già tu hai lavato i bagni. Pugge, questo, questi qua, Fasca, non ha bene. No, no, miss, lui la mattina lavare a pozzulla per bocca, a spazzarino, a cambialo, va. Non avere masca? No. Ah, io come fare? Ah, tu ci hai? Che è tu ci hai? Ah, ma mamma mia, adesso la tacche c'è una bella. No, non piove. No, bella sera. Ah, non avere nemmeno tu ci hai? Come fare io? Come fare senza lavatura? Eh, si è appellato delle frecce, saline, si è appellato la lavatura di estate, capirà no? Ah, io ieri avere camminato lungo, lunghissimo marciapiede, io avere fatto molto, molto sporcacciona. Ma che lì? La passeggiatrice che è, capirà no? Io sono andata a letto molto sporcacciona. Ma frate chissà chi mi ha buttato nella sua casa, non si è mangiato sempre pane o loro. Hai ragione, hai ragione, si è mangiato sempre pane. E ora si mangia solo loro nubb, perché il pane se lo sta mangiando tu quando hai la tronccia. No, ma è come un zio maestro. E io imparare da lui molte parole di vostro parlamento, io dire fettienti, come dire simpatici, disgraziato ogni... Torua mamma, ma te l'aiutabbarà. Ma mamma, quello è mostrato gli anni, vieni se lo mangiare. E lui è simpatico, molto simpatico. Sentitevi un po' graffi, lì. A questo non proprio qualcosa di questo. E per bene, lì, ma la vicinetta. Senti, è demesso. Ma vuoi capire proprio tutto di nostro Parlamento? Sì, io capire, io scrivere tutte parole. Allora, ma spiegatemi una cosa, mamma, sapesse faricere, il suo fratello e il mio marito è ricco, qui è tornata all'America dopo 20 anni, più patriata, sfrandomata, e mi ha pusciato quando se ne è partuta? Io non avrei capito nemmeno una parola. E che non avrei deciso quando non avrei essere. Ma come? E' famiglia. Cosa dire? Ma è bello, bello, cosa essere? Oh, ma cosa? La massa nuova, la mullacina. Ehi! Grazie, grazie. Cosa è un aranzo? Cosa è un aranzo a questo? Tu essere grande, grandissima, disgrazia, donna. E guarda che ho dato una singola, una pupatella. Sì, c'è, sape, ti dico un po' tu, ma io ho visto sape. Basta, io ho già città. Che dici, quando ci vuole andare? Eh, meno tu, aspettiamo a te. A me? No, io dico quando ci vuole andare, sai, la carruzzella, il giornale, dallo giulato per il Miss Rose, con stuzzichina, 5-6 mila euro di ricetta, faccio. E pensa così? Ma basta, ma basta. E' la mia amiglia? E' la mia amiglia. E' la mia amiglia, ti stai in guarda, per la domenica. Rosi, vatti a preparare, vai, usciamo, eh. Hai tu, grande sconnacchiato. Ma non è bello, ma che hai detto questo? Hai tu, geloso, tu, non essere geloso, tu, mio grande conuto. Ah, finalmente sai, vai! Ma non hai detto un bel nardo, ok. Certamente si è stato tu. Eh, forse li arrivi a mia un po bazzia, ma hai il po' magra. Mah, ma anón da? Ma anche c'è filo affa' sa quattro tale, ma bagano percà. Anna, tu... Diane, io avrei una cosa assiccura, vedere. Eh, sì, sì, sì. C'è già piccari già, ma raccomando o bra. non mi facete fare il brutto di figuro commissi l'ostro hai capito o no? ah ah mi raccomandate il promu hai capito? vai 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 io denuncia io non faccio io denuncia perchè non ho legge da qualche parte per questo fatto, già da sta scritta hai capito o no? i denunci a esse, i denunci a esse non c'è un capitano da Napoli un residente degli Stati Uniti e pure anche il potente Cristofra Colombo che si faceva i fatti sui hai capito o no? ma calma vado a spiegare pure tu chi sta servendo i conti? chi sta servendo i conti? non c'è una cosa 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 ma dai ma io questo fratello ma lo non è si sfortera a me ma faccio i nostri ma Ourstri dog una cosa le ganna banati voi no le ganna da canzone che ha robato il poo ma bene signore e grazie ma non voglia all'America Grazie a tutti.